Continuo a far discutere il modo drastico un semplice messaggio con cui l'Inps ha annunciato che quella erogata a luglio per i percettori è stata l'ultima tranche del reddito di cittadinanza. Da questo mese niente più soldi sulla popolare carta gialla, salvo alcune eccezioni. Continueranno infatti a percepire il sussidio le famiglie con disabili o minori o con persone con più di 60 anni d'età. La misura terminerà comunque e per tutti entro fine anno. Poi scatterà un nuovo strumento di sostegno varato dal governo Meloni, l'assegno di inclusione. I requisiti previsti per poterne beneficiare saranno altri. La razio, spiegano dal governo, aiutare chi si trova in condizioni di oggettivo impedimento e indirizzare gli altri verso il mondo del lavoro. Introdotto nel 2019 dal governo Conte, il sussidio fin da subito aveva innescato accese polemiche legate alle fasce molto ampie di percettori. E lo stop appena scattato, come c'era da aspettarsi, ne alimenta altre. Hanno tolto il reddito di cittadinanza, che ne pensa? È favorevole? Io favorevolissimo, la gente deve andare a lavorare perché nel momento del bisogno va bene ma non deve essere la normalità. La gente si deve alzare o sennò per il reddito di cittadinanza queste persone devono essere utilizzate per pulire le strade, per pulire gli argini, così non arrivano gli alluvioni e di essere utili nel sociale. Chi ne ha bisogno per me dovrebbe restare? Io sto sempre per aiutare chi ne ha bisogno. Perché ci sta molta gente che non se lo merita, se lo piglia. Ma c'è anche chi ne ha bisogno invece? Ma no, ma quello non l'hanno tolto, l'hanno tolto solamente a chi è efficiente nel senso che può lavorare. Chi può lavorare deve lavorare? Deve lavorare, non solo deve lavorare ma può fare pure i lavori utili. Il comune di Venafrica ha bisogno di tanta manutenzione e qui a Venafrica ci stanno 80, 90, 100 persone che prendono il reddito di cittadinanza, quelli potrebbero pulire le strade, levare l'erba. Io penso che si dovrebbe aiutare la gente che sta in difficoltà. Penso che sia una strada e che sia invece una grandissima forma di civiltà. Ci siamo arrivati troppo tardi, l'hanno tolto troppo presto. E se fosse per lei quindi lo terrebbe? Il reddito universale, perché c'è un problema reale sul mondo del lavoro, l'evoluzione non si può fermare. Questi signori dovrebbero studiare forse quello che è successo con la rivoluzione industriale e rendersi conto forse che la gente non si vuole culare sul reddito di cittadinanza ma è una necessità. Insomma, l'addio al reddito, vista l'ampia platea di percettori che ne hanno beneficiato soprattutto, ma non solo, nelle regioni del sud per più di tre anni, non è e non sarà indolore.